L'Illione Ovest dell'ospedale di Genova, dove poco fa c'è stato l'incontro dei medici con l'orevole Zennaro e con il consigliere Cipolletti, entrambi del Movimento 5 Stelle, ma nell'ambito di queste cose abbiamo visto le cose brutte, oltre 50 persone in fila per il CUP, una fila tremenda, e poi qualcuno che deve denunciare qualcosa, gli sabrà che non ha paura notoriamente, ce l'abbiamo, ed è disposto a dire che cosa ci può dimostrare, vai? Sì, io non ho paura perché quando uno dice la verità non deve mai avere paura. Invece molte volte uno deve temere se dice la verità, può succedere? No, se uno è ipocrita teme sempre, ma se uno è sincero non ha paura. Vai! Io ho fatto la fila aspettando le 50 persone che avete visto anche voi. Tu avevi 50 davanti? Io ne avevo personalmente 32 davanti, però ci ho messo un'ora e mezzo, un'ora e venti. Per ottenere questo risultato mi serve una prestazione, la prestazione se vado da Radio Sanit... E' convenzionata con l'Asda. Sì, ma dalla quale io non sono contenta perché io voglio il servizio pubblico, le ditte convenzionate se hanno la forza se lo fanno, e se no non dobbiamo noi pubblico pagare le ditte convenzionate. E comunque, sì, la prestazione avviene giovedì 4 aprile 2019. La stessa prestazione a Teramo l'avrei ottenuta il 20 aprile 2020. Ecco, io ho una denuncia che voglio fare perché non è possibile che aspettiamo un anno per la stessa prestazione quando le ASL autorizzano una ditta convenzionata a fare la stessa prestazione, e la ditta convenzionata te la fa 5 giorni dopo. E' un disegno per far finire la sanità pubblica, e noi questa cosa l'abbiamo sempre denunciata e la continuiamo a denunciare. Tra l'altro esiste una legge in base alla quale i medici di base sono tenuti ad inserire nella ricetta medica un codice, tramite quel codice noi cittadini avremmo diritto ad ottenere la prestazione nei tempi previsti dalla legge. Se il CUP è intasato e le liste d'attesa sono lunghe, abbiamo il diritto ad ottenerle in intramenia senza pagare un euro in più del ticket dovuto. Ma i medici lo sanno? I medici sono sicura che lo sanno, non capisco perché non lo fanno, e non capisco perché viene privata la cittadinanza di un altro diritto che gli appartiene. Grazie! Grazie!